Per me è solo una questione di civiltà, definisce così la vicenda dei parcheggi a pagamento del CUP in ospedale il manager della ASL Giancarlo Silveri. La scelta di far pagare, ma solo in quel pezzettino di parcheggio, è per dare comodità alle persone che devono pagare il CUP. Per visite e altre problematiche, infatti, afferma Silveri, ci sono altri parcheggi e la gente lo sa bene. Per il CUP la fila media è di 20 minuti, per cui se le cose funzioneranno, dice, nessuno pagherà. Questo perché, secondo le direttive della ASL, che dovrebbero entrare in vigore però il primo luglio, infatti il cartello delle tariffe questa mattina era ancora coperto, la prima ora di parcheggio è gratuita, poi sono 50 centesimi ogni 30 minuti. Lo abbiamo fatto, dice il manager della ASL Silveri, per dare la possibilità a chi deve solo pagare il CUP di parcheggiare davanti al servizio ed accedere comodamente a questo. Ma le polemiche sono sempre in agguato e molte persone questo aspetto proprio non va giù. In realtà questo è un meccanismo che è attivo nella maggior parte degli ospedali italiani. Per rispondere alle polemiche ha anche chiarito che questo aspetto riguarda solo la parte del parcheggio del CUP. Non si dica dunque che il parcheggio dell'ospedale si paga.